Scoperti e denunciati dalla Guardia di Finanza di Bageria in provincia di Palermo tre falsi ciechi assoluti che percepivano la pensione di invalidità da oltre 30 anni. L'operazione è stata portata a termine dalle fiamme gialle della cittadina palermitana nel quadro di un più ampio progetto investigativo denominato FIKE Blind con l'acquisizione degli elenchi degli invalidi riconosciuti presso l'Inps, cui ha fatto seguito una mirata attività di incrocio con le informazioni contenute nelle diverse banche dati in uso della Guardia di Finanza. Questo preliminare screening ha fatto emergere alcune posizioni soggettive connotate da evidenti incompatibilità con la condizione di cecità assoluta, fra cui l'intestazione di automezzi e infrazioni al codice della strada, così come un'attiva vita sociale rilevata dai principali social network. Eseguita poi una mirata attività di osservazione e pedinamento con foto e riprese video nei riguardi dei soggetti maggiormente sospettati di avere per lungo tempo truffato lo Stato. Fra questi un cinquantenne di Santa Flavia che nonostante risultasse non vedente totale dall'anno 1974, oltre ad avere un profilo Facebook con numerosi fotogrammi comprovanti una vita del tutto normale, risultava intestatario di un'auto. Monitorato per diversi giorni dai finanzieri è stato filmato durante frequenti uscite di casa sempre da solo mentre passeggiava senza problemi parlando al cellulare e prestando molta attenzione al traffico cittadino. Altra situazione approfondita dalle fiamme gialle e bagheria è riguardato lo strano caso di due anziani fratelli di Misilmeri, un uomo e una donna, i quali contestualmente nel 1988 era stato diagnosticato il medesimo handicap di cecità assoluta con conseguente concessione della pensione di invalidità prevista in questi casi. Anche per i due anziani, attraverso una mirata attività di osservazione, l'uomo è stato ripreso durante le sue assidue, frequentazione del bar della piazzetta dove si recava per la quotidiana partita a carte con gli amici. La sorella invece è stata filmata durante gli spostamenti verso la vicina chiesa o all'uscita dell'alimentari mentre portava le borse della spesa verso casa. Complessivamente la truffa posta in essere dei tre soggetti, tutti denunciati alla Procura della Repubblica del Tribunale di Termini Merese per il reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche ha provocato allo Stato negli anni un danno per oltre 520 mila euro.